Bene, il contest ma soprattutto è la finale del concorso di Glamour qui all'Hotel Regina Salso Maggiore Terme è giunto al termine e ovviamente all'interno di questi splendidi saloni fine 800 inizio 900 incontriamo anche il presidente di giuria Franco Di Maio che è qua diciamo con noi è stato a seguire già da ieri sera tutte le vicende del concorso stesso dove ha visto le ragazze sfidare ma ha visto anche tanti stilisti. Alla presidenza del consiglio dei ministri Franco Di Maio no no ma l'abbiamo ricordato anche precedentemente come ti è parso tutto questo? Io ringrazio Massimo Sorrenti prima di tutto perché noi non ci conoscevamo per niente è stato veramente un bello incontro diciamo di conoscere una bellissima persona e con la serietà questo è un concorso che ho visto veramente molto ma molto serio poi che dire le ragazze io non le conoscevo tu può darsi che le conoscevi esatto io non le conoscevo però ti posso assicurare sono state belle si sono comportate veramente benissimo all'inizio sai erano un po' così un po' spaisate diciamo perché vedendo questi giudici vedendo persone però poi nell'insieme è stata veramente una bella sorpresa e ti dico che nessuno si è lamentato perché i voti sono stati veramente fatti bene nel senso che nessuno ha sbagliato a dire io ho una preferenza per quella oppure una preferenza con quell'altra nessuno di noi ha avuto preferenza per nessuno ognuno di noi ha avuto il suo votare ed è stato veramente una cosa veramente molto seria che può darsi in altre occasioni non lo dico però lo penso bene hai sintetizzato quello che è avvenuto durante questa serata pomeriggio e sera del concorso stesso speriamo di rivederti in altre occasioni sempre in qualità di presidente magari in altre etappe del concorso che ripartirà ad aprile come diceva Massimo e poi ti auguriamo il meglio perché so che tu fai tantissime cose dal cinema al teatro a televisione faccio diciamo così beneficenza ma non beneficenza perché lo voglio dire che faccio beneficenza io amo i bambini e amo i bambini con handicap bambini che hanno dei problemi purtroppo oncologici amo tutti i bambini che possono essere io non ho mai avuto nulla e voglio che questi bambini devono avere tutte le grosse più soddisfazioni uno dice ah vabbè quello c'ha la Ferrari sì io la metto la Ferrari però la metto per i bambini non la metto perché la voglio mettere per dire lo sparone che ho fatto ah c'è la Ferrari io c'ho la Ferrari no io c'ho la Ferrari perché la metto a disposizione dei bambini i bambini sono una cosa veramente che sai che gli rimane proprio a dire così ho avuto una grande soddisfazione di stare qua di fare queste cose e poi come ti ripeto i bambini questi qua sì sì diciamo che quello che hai detto e quello che ci hai fatto poi capire durante il corso della strada è stato molto importante noi ti ringraziamo e speriamo di ancora una volta di rivederti per l'occasione Massimo a dire la verità ha già mai invitato però gli ho detto di così oh non mi fa fare né presidente né giuria voglio venire perché tu sei simpatice come ospite come fa quello come si chiama quello zappelli che si porta la sua cosa venite e in questo paesaggio non vengo come ospite ecco grazie Leo grazie a te ancora buon ritorno a casa